Siamo a Rocca di Papa, presso le strutture del centro equestre Ranieri di Campello dei Pratoni del Vivalo, dove dal 3 al 5 novembre si svolge l'edizione 2017 del Saggio delle Scuole, la storica manifestazione di concorso completo che elegge le migliori promesse, le giovani promesse dell'equitazione italiana. Quest'anno sono 15 le squadre provenienti da tutta Italia che si sfideranno su questi tre giorni dedicati al dressage, al salto ostacoli e al cross country per eleggere la migliore scuola italiana di completo. Venerdì dedicato al dressage con le gare che sono iniziate già dalla mattina presto nonostante la pioggia battente e che per la categoria 1 del Saggio hanno visto la vittoria di Giulia Mannoni in sella a Dance Clever per il circolo epico laziale Il Dragoncello. La c'è in evidenza anche nella categoria 2 del Saggio vinta da Beatrice Nardilli in sella allo Staffiere del Re, atleta tesserata presso il circolo epico Atlion. Siamo con Pietro Roman, istruttore di Giulia Mannoni che in sella a Dance Clever ha vinto la categoria 1 del Saggio delle Scuole e la prova del dressage. Allora Pietro ti chiedo un commento su questa prova e sulla tua allieva. Allora devo dire che è stata molto brava Giulia, sono molto contenta della sua prova. Ci tengo a precisare che un grande merito va fatto a chi sta dietro le quinte, ovvero a chi l'ha seguita in questi giorni, nell'ultimo periodo l'istruttrice Geraldine, astrologo e mia moglie Francesca Blasi. Quindi il merito della grande prestazione di oggi è soprattutto loro. Sono molto contento perché Giulia è una bambina molto piccola, di 11 anni, campionessa italiana under 11 poni l'anno scorso e quest'anno ha riconfermato la sua posizione e sta lavorando, nonostante la sua età, sempre molto meglio. Ogni giorno si impegna di più e questi sono i risultati che poi vedeva sul campo. E da grande atleta internazionale quale sei, ricordiamo la tua presenza a Rio, alle Olimpiadi, il migliore azzurro in campo in quell'occasione. Ti rivedi un po' in questi allievi, in questi ragazzi, che emozione ti dà rivederli in campo? Assolutamente, mi rivedo molto in loro perché questa è una gara a livello storico dal punto di vista italiano, il saggio delle scuole è forse la gara più importante che ci ricordiamo. L'ho fatta tante volte da bambino e me la ricordo sempre con grande gioia. Una gara che dal punto di vista della pressione, per quanto riguarda la squadra, ne metteva tanta. Quindi già insegna ai ragazzi a dover mantenere un certo standard e a riuscire a tenere la pressione. Quindi questo è il pre, magari, chissà, europei, Olimpiadi e mondiali. Siamo con Giulia, questa giovanissima atleta che oggi ha vinto la categoria 1 di dressage del saggio. Quanti anni hai Giulia? 11. Come si chiama il maneggio dove monti? Il dragoncello. E da quanto tempo vai a cavallo? 8 anni. Giulia, raccontami un pochino la gara di oggi, come è andata, come è stato questo cavallo? Bravissimo, era molto morbido, ero molto emozionata, però alla fine è andata bene. In questi giorni presso le strutture del centro equestre dei paratoni del Vivaro si svolgono anche le finali del campionato italiano riservato ai giovani cavalli, sempre per la disciplina del completo. Nella categoria riservata ai 4 anni, migliori in campo Andrea Bianchini, in sella a Broken Hill dell'esercito italiano. Per i 5 anni invece a vincere sono stati Emiliano Portale e Scudo del Castegno. Finalmente siamo riusciti di nuovo ad avere queste manifestazioni più importanti qui ai pratoni del Vivaro. Il centro è stato riaperto ed è in fase di organizzazione, diciamo che siamo a buon punto e già ci sono state delle manifestazioni di rilievo. Oggi i puledri, i cavalli di 4 e 5 anni hanno affrontato e superato l'ispezione veterinaria e la prima prova, la prova di dressage. La prova che dimostra più che altro le andature, la loro capacità di collaborare con il cavaliere e lavoro in piano per il momento. Poi domani e dopo domani affronteranno la prova di cross, che è la prova più rilevante del concorso completo. E poi domenica la prova di saltostacoli per concludere questa finale dei cavalli di 4 anni e di 5 anni. Posso dire che sicuramente osservando l'ispezione veterinaria e la prova di dressage, quest'anno abbiamo dei cavalli veramente di notevole interesse sia come struttura che come andature, che derivano da una selezione molto accurata di questi ultimi anni e credo che siano molto promettenti per il settore del completo. Purtroppo il numero ancora è un po' limitato ma speriamo che nel futuro di poter ampliare questa rosa di cavalli che a mio avviso sarà sicuramente nei prossimi anni molto interessante.